Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo che non possa essere lì in questo momento così importante però per colpa delle restrizioni che sappiamo tutti, purtroppo non posso essere presente ma volevo dire che sono veramente molto felice per questa premiazione non posso non dire grazie a tutte le persone che hanno contribuito perché questo potesse accadere quindi un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso alla mia famiglia, ai miei amici, ai tifosi, ai miei compagni, agli allenatori alle persone in cui non credevano in me ma anche queste persone mi hanno motivato mi hanno dato della motivazione per continuare a lavorare ancora di più quindi grazie anche a loro, grazie a tutti e sono veramente molto felice e un abbraccio a tutti quanti grazie a tutti